Ciao a tutti amici, bentornati sul mio canale Canon EOS R7 Watch Before You Buy. Ma come direte voi? Ci hai già fatto dei video parlando di questa camera e ce ne hai parlato bene e adesso ci fai un video parlandocene male? No, non è esattamente così. Io non voglio fare un video per parlare male di questa fotocamera perché personalmente la sto usando, mi sto trovando molto bene, mi sta piacendo praticamente tutto perché ho letto a fondo le specs prima di comprarla e quindi sapevo esattamente che cosa stavo comprando e a me andava benissimo così. Faccio questo video per chi, pur magari essendosi guardato le specs, non l'ha mai tenuta in mano, quindi vi vado a dire semplicemente quali sono, non gli aspetti che secondo me potevano essere migliorati,